Allora, prendiamo il nostro elastico, sposto il puff, i piedi vanno a bloccare l'elastico alla larghezza delle spalle, ci pieghiamo in squat, mi raccomando le ginocchia non devono superare la punta dei piedi, le cosce devono essere 90 gradi rispetto al terreno, la schiena più dritto possibile per quanto c'è possibile, andiamo a tirare l'elastico in modo che sia in tensione sui nostri piedi e ci stendiamo, ok? Pronti? Partiamo via, 1, via 2, via 3, via 4, via 5, via 6, 7, 8, 9, 10, bravissimi, 10 secondi, ok? Stessa posizione, anche qui andiamo a fare 3 serie, ci appassiamo, pronti? Via 1, via 2, via 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Ok? Stiamo lì, 10 secondi, teniamo la posizione, che è meglio, ok? Via con gli ultimi 10, pronti? tirate bene l'elastico, via 1, via 2, via 3, via 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Adesso ho fatto nel senso dell'elastico, facciamo questo esercizio, da in piedi, portiamo indietro una gamba, con il ginocchio che va a sfiorare il pavimento, ci alziamo, andiamo a calciare e torniamo indietro, ok? 10 con la gamba destra e 10 con la gamba sinistra, pronti? Via, 1, via 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi raccomando, quando scendiamo la schiena è dritta, eh? non in avanti, non in indietro, se 10 sono tanti, cominciamo con 5, andiamo con la sinistra, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, ok? Per oggi ci fermiamo qua, ciao a tutti!